si è appena conclusa Lazio Inter il punteggio finale è di 1-1 come vedete in sovrimpressione con i gol di Lautaro Martinez al trentesimo minuto e al cinquantacinquesimo il pareggio di Milinkovic Savic, è stata una partita molto differente rispetto alle precedenti due sfide che abbiamo visto di quest'Inter all'inizio campionato un Inter che a differenza di Benevento e di Sensilo contro la Fiorentina non ha cercato di dominare la partita non ha cercato la produzione offensiva enorme che abbiamo visto nelle altre partite dove si è preferito appunto cercare di segnare un gol in più dell'avversario piuttosto che subirne uno in meno. Oggi diciamo che qualche segnale di cambiamento di rotta rispetto alle precedenti due sfide c'erano già state già quando sono state annunciate le formazioni ufficiali perché rispetto al 3-4-1-2 che abbiamo visto schierare, mister Conte oggi aveva optato per il 3-5-2 con Vidal Gagliardini e Barella dal primo minuto e questo poteva già darci forse un'indicazione su quello che poi è stato l'atteggiamento dell'Inter. Un Inter che ha cercato di manovrare molto il pallone, ha cercato di gestire la partita con dei ritmi bassi, secondo me anche per cercare di non innescare i contropiedi della Lazio che sono la loro arma migliore e con la quale hanno anche dimostrato di poter far male all'Inter. Primo tempo in cui la prima vera occasione è stata per la Lazio con Luis Alberto, poi però l'Inter è venuta fuori meglio, ha giocato da buona squadra, ci aspettavamo una prova da grande squadra, è mancato qualcosina secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento appunto e poi è arrivato il gol con Lautaro Martinez, un ottimo gol dopo che non aveva brillato in realtà secondo me nella primissima parte della gara nel secondo tempo, la partenza ottima perché ci aspettavamo un Inter che avrebbe provato a chiuderla e di fatto così è stato perché le primissime due occasioni sono state ottime per l'Inter che avrebbe probabilmente anche meritato di trovare il raddoppio inizio secondo tempo, invece la Lazio trova il pareggio con Milinkovic, Savic e per dieci minuti sono paradossalmente quasi una solo da parte della Lazio che sfiora anche il 2-1 poi cambia tutto con l'espulsione di Immobile, un'espulsione che sicuramente farà discutere come però secondo me fa discutere perché è ancora più clamorosa quella riservata a Stefano Sensi proprio nei minuti finali francamente mi lascia molto molto perplessa la decisione dell'arbitro di espellere Sensi mi è sembrata più una ricerca di compensazione rispetto al rosso di Immobile che comunque per me ci stava, più quello di Immobile sicuramente che quello di Stefano Sensi tra poco chiudiamo il giudizio vi leggo prima però le pagelle curate in diretta dal nostro Antonio Siragusano che dà voto 6 a Samir Andanovic che di fatto non viene impegnato praticamente mai fa una buona parata su Luis Alberto nel primo tempo poi su Milinkovic Savic non può fare moltissimo dove l'errore è più di posizionamento della difesa Screener comunque tra i migliori in difesa prende 6 e mezzo prova incoraggiante dopo i vari dubbi che sono stati sollevati su delle prestazioni di Screener come difensore di destra D'Ambrosio entra all'ottantesimo non ha modo di incidere e prende senza voto De Frai prende 6 per me ha retto bene ha giocato molti anticipi ha gestito molti palloni probabilmente nella valutazione del nostro Antonio incide soprattutto il posizionamento non corretto in occasione del gol di Milinkovic Savic dove parte delle colpe se le prende anche Bastoni che prende 5 e mezzo ma anche Perisic che viene battuto di testa da Milinkovic Savic ed infatti Perisic prende 5 nelle valutazioni del nostro Antonio in una partita in cui ha sbagliato veramente anche tanti tanti cross pur comunque dando il via all'azione comunque decidendo di fatto il gol di Lautaro Martinez con la sua azione sulla sinistra poi Akhimi prende 6 oggi è stata una partita complicata per Akhimi perché è stato tamponato tantissimo non ha avuto modo di agire in campo aperto sapevamo che la Lazio avrebbe preso delle contromisure importanti su di lui e così è stato Barella vuoto 6 ha gestito tanti palloni anche lui poi nel finale è un po' calato Vidal 7 viene indicato come il migliore in campo nelle pagelle del nostro Antonio Arturo Vidal che anche secondo me ha giocato molto bene sia in fase di interdizione che di impostazione Brozovic 6 è entrato senza poter incidere più di tanto dal settantatresimo Gaiardini voto 5 e mezzo aveva sicuramente fatto meglio contro il Benevento Sensi entrato al sessantasettesimo prende 4 e mezzo nelle valutazioni del nostro Antonio sicuramente l'ingenuità del rosso di Patrick pesa tantissimo Ashley Young senza voto anche lui è entrato nel finale e si è preso solamente il giallo di esperienza su Lazzari Lukaku voto 5 un voto questo che farà molto discutere la sua è stata una prestazione molto molto difficile perché è stato marcato a vista marcato a uomo e non ha avuto mai l'opportunità di giocare in campo aperto non ha avuto mai l'opportunità di dar sfogo alla propria fisicità ha dovuto gestire tanti palloni spalle alla porta e ne ha risentito prende 5 anche nell'assalto finale comunque non ha dato un gran contributo in zona offensiva Lautaro prende 6 e mezzo sicuramente meglio per il gol prima del gol non aveva fatto benissimo Sanchez subentra nel finale e prende senza voto vi lascio in descrizione il link per rileggere le pagelle voglio sapere sicuramente i vostri commenti in descrizione trovate anche il link per votare il migliore in campo in questo modo con i vostri voti andremo ad eleggere l'MVP per chiudere ci aspettavamo un salto di qualità da parte di questa Inter dicevamo la scorsa stagione all'Inter era mancata proprio la vittoria in alcuni big match importanti quello di oggi era un banco di prova importante l'Inter purtroppo non c'entra i tre punti va anche detto però secondo me che ci sono anche note positive meno bene l'attacco contro una squadra comunque rognosa come la Lazio l'avevo detto anche alla vigilia attenzione a non farsi ingannare dalla sconfitta pesante subita contro l'Atalanta perché la Lazio anche al di là dei problemi fisici che poi tra l'altro ci sono stati anche diversi infortuni durante la gara per la Lazio la Lazio è una buona squadra anzi è un'ottima squadra sarà sicuramente un osso molto duro quindi non dovevamo farci ingannare non sarebbe stata e non è stata nei fatti una partita semplice la nota più positiva sicuramente è aver registrato la fase difensiva contro un avversario temibile contro la Lazio ci aspettavamo una buona prova della fase difensiva questo ci fa ben sperare in vista della prosecuzione della stagione in vista adesso della sosta per le nazionali al rientro dalla sosta ci sarà il derby un derby al quale l'Inter quindi si presenta con delle certezze in più in fase difensiva speriamo appunto adesso di mettere tutto insieme quanto di buono ho visto fino ad ora in attacco e quanto di buono ho visto oggi in fase difensiva fatemi sapere se siete d'accordo con i nostri voti se siete d'accordo con la mia analisi scrivetelo nei commenti prima di chiudere vi raccomando iscrivetevi al nostro canale per voi è totalmente gratis ma a noi date un grandissimo supporto e soprattutto non vi perdete così neanche un appuntamento con le nostre dirette ogni giorno e anche per le ultime ore di mercato saremo live qui sui nostri canali quindi iscrivetevi lasciateci un like e seguiteci grazie grazie grazie